Ciao e benvenuti! In questo video presentiamo un drillo di mano per i vostri hobby. È un strumento molto utile per piccoli e precisi. Può lavorare su lato e plastica e facciano ruote da 0,1 mm a circa 3 mm. È servito con quattro drillo diversi dove inserire le piccole di diametri diversi. A presto! Grazie per la sua attenzione e iscriviti al nostro canale. Grazie! Grazie!